Siamo nell'isola più bella del mondo, l'isola azzurra, siamo a Capri, grande estate, comincia l'avventura, guardate le immagini da Capri. Taverna Anna. E core da Guido Lembo, Weekend Dance nei grandi eventi c'è. E core da Guido Lembo, Weekend Dance nei grandi eventi c'è. E core da Guido Lembo, Weekend Dance nei grandi eventi c'è. E c'è una base maggiata, tu t'ajutà. E core da Guido Lembo, Weekend Dance nei grandi eventi c'è. E amici miei, la taverna da poco ha compiuto gli anni, quanti anni? Diciassette anni, Dino, diciassette anni. Diciassette anni, il posto più conosciuto al mondo. Non lo so però... Lo sappiamo noi che ti curiamo bene. E' bene, io sono felice per tutto quello che mi è successo nella vita. E' vero? Sono soddisfatto, guarda qua. Ma c'è ancora tant'altro tempo per avere altre soddisfazioni. Poi naturalmente questa è stata... Bye bye, Celeste e Annemecco. E basta. Poi dove andate? Da andate. A noi, non ci capite. Puliziano. Prima la taverna. Annemecco. Poi bye bye e Celeste. Guarda, soprattutto non solo per i vacanzini, ma anche per i napoletani che possono venire nelle fine settimana. Qui, eh? Eh, sì. Risponde. Quindi quest'estate a Capri. Risponde. Ah, capito. Vieni qua, quindi a Capri, Annemecco, Celeste e bye bye. E bye bye. E bye bye. Oh, mi chica, 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 mi chica ma che incontro bello che meraviglia capri incontrare guido lembo a manuela nazionale all'anime e cose certo sempre come dice guido anima e core ma che cosa di particolare capri questa taverna capri e mi incanta e questa laverna è veramente il piedi sallo di capri non si può conoscere capi se non si conosce l'anime e core poi quando si viene a capri e come si va a pompei bisogna all urd vedere allora toccarlo 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 porta bene che gli dedichiamo a manuela stasera tutti tutte le canzoni tutte attenzione diciamo nel tuo repertorio napoletano qual è la canzone che più ti somiglia reginella la facciamo cantarlo a me sono suonata ciao ragazzi ci saluti weekend dance manu ciao weekend dance che ci fai a capri quello che ci fanno tutti vacanza quindi dopo tanto lavoro e il meritato successo mi sembra che capri sia un posto di tranquillità no tranquillità ah no nel senso un posto di divertimento anche perché uno si viene a capri non è che vuole tanto la tranquillità magari vuoi anche divertirsi cosa di speciale quest'isola che rapisce un po tutte le persone non so il mare l'atmosfera il divertimento di sera in realtà se vuoi stare tranquillo puoi anche stare tranquillo si mangia bene c'è tutto quindi ti piace in assoluto come posto di di relax se vogliamo dire no possiamo dire come se assolutamente semplice molto grazie ciao 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 del Napoli raccontaci un po' come è stata come è andata Alessandro? è andata bene per quando si passa tra Bositano, Capri e la Costiera non c'è altro di cui avere bisogno poi questo è un posto perché ti dà tanto relax tanto benessere e ti diverti insieme a tanta gente beh qua dentro più che relax energia, il relax fuori e poi finalmente trovi gli amici di sempre come Guido Lim soprattutto la taverna è un punto di divertimento per tutti guarda noi abbiamo quest'anno chiaramente ho fatto un'estate un po' più tranquilla, famiglia perché il pancione nel frattempo cresce però abbiamo aperto e chiuso la stagione con Guido ragazzi facciamo una prosa al Porsche grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti tutti insieme una taverna così importante per il divertimento per il divertimento non potevate non essere questa sera da Guido Limbo ballare nel coro guarda Capri è dentro noi ogni volta che vengo qua siamo qua con tutti loro c'è un'energia che non si tratta in altre situazioni del mondo quanto è bella Capri è bellissimo è bellissimo è una roba unica anche nel serato così è una serata che si fa solo qua con la gente che sta tutti bene insieme e cantare e dare un'emozione più di andare ballare per noi è molto molto speciale la vostra moda quella di The Squared oramai viaggia bene tutto il mondo anche qui a Capri tanto tanto napoletani amano The Squared noi amiamo il Napoli perché il nostro papà anche è napoletano siamo a metà guaglione allora Dean e Dan volete salutare We Can Dance We Can Dance I'm Dean I'm Dean and we are Dean Squared and We Can Dance The Squared only e di no piacente di We Can Dance stanotte volesse chiamare va diventa e di no piacente stanotte con We Can Dance volesse chiamare ragazzi secondo voi ce l'avrà no vino stanotte sicuramente vino stanotte non ce l'ha vino batta cucca batta cucca batta cucca batta cucca son crow l'ha Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.